Dopo soli tre giorni dalla sconfitta di Tortona, l'Orlandina stasera alle 21 torna in campo per affrontare al Palafantozzi la capolista Casale Monferrato. I piemontesi, reduci dalla debacle subita a Trapani domenica, puntano a tornare a vincere per evitare di essere superati in testa alla classifica da Biella. Per i paladini, dopo quattro sconfitte di fila, è ora di dimostrare di essere competitivi e di iniziare a risalire la classifica, anche se l'avversario è uno tra i più temibili del torneo. Sono contento di essere tornato finalmente in campo, ma siamo tornati da Tortona con una sconfitta. Io ho segnato 21 punti, ma non significano nulla senza la vittoria. Avrei preferito segnare zero e vincere la gara. Ci siamo allenati bene in questi tre giorni e sono sicuro che stasera faremo una grande partita. Il coach ha preparato un ottimo game plan e anche noi giocatori daremo il massimo. Sappiamo che quella di stasera è una partita molto importante e spero che i tifosi vengano a sostenerci come fanno in ogni partita. Il supporto dei nostri tifosi è fondamentale.